Mentre le imprese attendono urgentemente interventi statali per parare il colpo dei rincari energetici e, in qualche caso, per continuare ad esistere, gli enti territoriali provano a correre ai ripari, sebbene le risorse, che se ne andranno in energia, continuino a crescere e saranno in futuro inevitabilmente sottratte ad altri servizi. Accade, per esempio, a Stradella, dove quest'anno si sono spese centinaia di migliaia di euro in più per luce e gas e di recente l'amministrazione ha corso ai ripari con una ulteriore variazione di bilancio da 116 mila euro, che quest'anno ha portato la spesa per illuminare e riscaldare gli edifici pubblici a lievitare di circa 300 mila euro rispetto all'anno scorso. Ma le previsioni per il prossimo anno sono ancora più nere. Si prevede che il conto per l'energia in pratica raddoppi, arrivando a sfiorare 2 milioni di euro. Il vicino comune di Broni, per rimanere inoltre po', è dovuto ricorrere nei giorni scorsi ad una importante variazione di bilancio, poco meno di 100 mila euro, per tenere botta. Si tratta, ha spiegato il comune, di un avanzo delle risorse del cosiddetto fondo Covid previsto dal Ministero e che ora finiranno nelle casse dei fornitori di energia. Per le utenze di luce e gas, il comune di Broni spende oggi circa 350 mila euro all'anno, ma anche in questo caso, l'anno prossimo, si prevede un raddoppio. Nella 2023 ci si prepara a spenderne almeno 700 mila. Di fronte ad aumenti simili, le doverose pratiche per risparmiare, proprio Broni, per esempio, si parla di uniformare l'orario dei dipendenti ed eliminare dove possibile gli sprechi, rischiano di essere il classico pannicello caldo. La situazione è ovviamente drammaticamente simile un po' dappertutto a livello nazionale. E così, accanto ai maggiori esborsi per l'energia, diversi enti provano a trovare e a destinare fondi per sostenere anche le associazioni di volontariato e quelle sportive. A Voghera, per esempio, il comune ha deciso nel corso dell'ultimo consiglio distanziare 62 mila euro per coprire i maggiori costi energetici degli impianti sportivi assegnati alle associazioni, dal palazzetto dello sport allo stadio fino ad alcune palestre.